Ciao a tutti i coberti youtube, io sono Nico, oggi sono qua per chiedervi di farmi un piccolo favore dovete sapere che il mio amico Maolo in questo momento ha bisogno di me per una cosa che deve fare sul suo canale innanzitutto sotto troverete subito il canale di Maolo che è un bomber, quindi dovete iscrivervi magari veramente lui è un bomber, lo conosco da tantissimo tempo e si merita gli iscritti quindi magari se vi va di andare nel suo canale a cliccare un bel tasto del mi piace gli fate un favore a lui, lo fate anche a me perché si merita inoltre il ragazzi fa dei doppiaggi quindi è molto bravo a fare dei doppiaggi ha speso molti molti soldi per fare quei doppiaggi e quindi vi chiedo di iscrivervi perché è veramente bravo inoltre il ragazzi ha bisogno di me perché lui deve fare un fuck you time però non lo può chiedere sul suo canale e quindi lo chiedo io qua per voi e voi sotto nei commenti dovete scrivere hashtag fuck time che tipo viene fuori adesso, lo scrivo tipo e dovete scrivergli una domanda per lui inoltre ragazzi questo video lo fa con una bella ragazza e quindi fate delle domande sensate ma non troppo sconce ecco quindi niente impegnatevi a inventarvi una bella domanda vi invito ad andare sul suo canale peace peace